ciao ragazzi bentrovati a questo nuovo video oggi andremo a parlare dei consigliati per la terza per la terza giornata di Serie A un saluto da parte mia Luca Di Leonardo e dallo staff di tuttofantacalcio.it prima di iniziare l'analisi di questa terza giornata vi invito chiaramente a iscrivervi al canale tuttofantacalcio qualora non l'aveste ancora fatto di cliccare sulla campanellina per essere sempre avvisati riguardo i nostri nuovi video andiamo un po' ad analizzare la terza giornata ma vi invito anche a scriverci qua sotto nei commenti i vostri dubbi di formazione per la terza giornata per alcuni di voi saranno i primi dubbi di questa terza giornata in quanto la maggior parte hanno fatto il mercato dopo la fine del del mercato tradizionale e quindi invito tutti quanti a scriverci i vostri dubbi e chiaramente saremo a disposizione iniziamo l'analisi di questa terza giornata con gli squalificati che appunto sono deron che deve scontare ancora due giornate e a miande lo spezia quindi da questo punto di vista abbiamo pochissime assenze mentre per questa terza giornata sicuramente il problema è dovuto al rientro dei sudamericani ci sono tanti giocatori in dubbio da musso all'autaro allo stesso nandez insomma quadrado vediamo un po' chi sarà della partita non abbiamo certezze da questo punto di vista vi dico già che sicuramente chiesa non giocherà la sfida di juventus napoli godin notizia dell'ultimo momento sarà out quindi questi saranno i due due le due assenze certe per questa giornata andiamo un po' ad analizzare chi schierare faremo due consigliati una scommessa e uno sconsigliato per ordine di reparto iniziamo dalla porta sicuramente consigliata andanovic se l'avete preso sicuramente lo reputate il vostro top in porta e quindi anche nella difficile trasferta contro la Sampdoria una squadra che comunque sfoderà i primi due attaccanti ovvero caputo e quagliarella probabilmente ci sarà il 442 in ogni caso andanovic se l'avete lo dovete schierare altro nome consigliato in porta è rui patrissio un portiere che non ha avuto un buon inizio come precampionato ma che in campionato ha fatto sicuramente bene la sfida contro il sassuolo non è delle più semplici e quindi ovviamente non è detto che possa tenere la propria porta in battuta ma sicuramente può prendere un buon voto in ottica modificatore Milinkovic Savic è la scommessa di questa giornata il torino gioca in casa contro la salernitana salernitana che ha cambiato tanto in avanti è arrivato riberi è arrivato simi però il torino ha necessità di vincere questa partita e Milinkovic Savic può essere una buona scommessa sconsigliato Zoet impegnato nella prima partita dell'anticipo sabato alle ore 15 tra Empoli e Venezia l'Empoli è una squadra che segna Zoet sappiamo che comunque è un portiere che ha subito ben otto retti nelle prime due partite quindi sicuramente avrete delle alternative migliori andando un po' al capitolo difesa il primo nome è sicuramente di Lorenzo del Napoli impegnato in casa contro la Juventus è un big match è vero ma di Lorenzo è iniziato benissimo questo campionato e ha trovato il primo gol in nazionale quindi se lo avete schieratelo perché potrebbe portare bonus altro esterno consigliato per questa giornata è Calabria impegnato in casa contro la Lazio dalla sua parte dovrebbe agire a Pedro Calabria comunque un giocatore in grado di mettere problemi a qualsiasi suo avversario tra l'altro capitano della squadra già un assist in questo campionato quindi schieratelo scommessa di giornata è Bremer non abbiamo la certezza che possa partire titolare ha recuperato si sta allenando in gruppo ma in casa contro la Salernitana se lo avete preso sapete il potenziale che ha ed è un ottimo giocatore per il modificatore Davidovic sconsigliato il Verona giocherà lunedì sera contro il Bologna Davidovic non è nemmeno detto che possa partire titolare in ogni caso non lo schiererei per questa giornata andando al capitolo centrocampo il primo nome consigliato è Malinoski impegnato in casa contro la Fiorentina non è iniziato benissimo il campionato ma lo sappiamo che Malinoski ad inizio stagione non inizia mai benissimo però in questa partita si può schierare se lo avete l'avete pagato quindi assolutamente da schierare nella sfida contro la Fiorentina Pereira rigorista dell'Udinese l'Udinese che è impegnato in casa dello Spezia quindi può fare assolutamente bene è un giocatore in grado di portare bonus sia sotto forma di assist sia sotto forma di reti ripeto è rigorista quindi assolutamente da schierare così come da schierare i bairami ha fatto due ottime prime partite contro Lazio e contro Juventus figuriamoci se non lo mettete in casa contro il Venezia con Valenco sconsigliato perché non è detto che possa partire titolare ha saltato scusate le prime due partite aspettiamo di capire che giocatore è sicuramente allo Spezia può far bene se lo avete in rosa parcheggiatelo ancora e andate a virare sulle vostre alternative a centrocampo chiudendo con l'attacco il primo nome consigliato è Abram impatto devastante nel nostro campionato un gol e due assist una forza fisica pazzesca in casa contro il Sassuolo si può assolutamente schierare così come si può schierare ed in Zeko impegnato nella tre difficile trasferta contro la Sampdoria ma sarà sicuramente titolare visto che Lautaro in dubbio Correa ancora in dubbio e Sanchez è appena ha ritornato dall'infortunio quindi Zeko sicuramente una buona scelta per questa partita come scommessa mettiamo piccoli è vero che Zapata ha recuperato ma piccoli sicuramente o partirà titolare o entrerà a gara in corso potete schierarlo Atalanta Fiorentina se siete un po' corti in attacco ci sta come scommessa Jonsen attaccante del Venezia sconsigliato per questa giornata ecco quindi ragazzi una breve analisi di questa terza giornata al fantacalcio vi invito ancora una volta chiaramente a scriverci qua sotto nei commenti riguardo i vostri dubbi di formazione siamo ovviamente a disposizione se vi è tutto questo video vi ringrazio se metterete il like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere sempre informati sulle nostre sui nostri video riguardo i fantaconsigli per ora è tutto un grosso saluto da parte mia Luca di Leonardo e dallo staff di tutto fantacalcio.it è tutto buon fantacalcio a tutti ciao